dottor io mi sento male ma infatti signor alto vi vedo agitato depresso dottor, depresso io sono tentato dal suicidio uè ma che state dicendo i suicidi? chiama la famiglia vostra eh signor alto? eh si ma come si può fare? vi passo vicino alle specie e mi vedo brutto mi guardo lì dalle specie e mi vedo schifoso mi vedo le rughe in faccia mi vedo questa faccia brutta dottor no 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 signor alto ma che so sti cosa voi non siete un vecchio decrepito che va da età? ah no no signora vi assicuro io dall'alto della mia professionalità voi qualche cosa di buona tenete? ah si e che t'enghi buona? ha visto